Una delle cinque terrazze panoramiche a sbalzo sul mare lungo la passeggiata dell'Isippo alla Marina dei Cesari è stata vandalizzata da sconosciuti alcune sere fa. Le terrazze fanno parte del progetto di riqualificazione operato da Marina Group dei 350 metri di passeggiata costato 140 mila euro ed inaugurato nel luglio del 2017. Qualcuno o visti i risultati più di uno hanno pensato di sradicare dalla sua sede il raccordo in acciaio fissato al suolo con pesanti tasselli tra le terrazze e la passerella in cemento armato dopodiché ha fatto saltare diversi listelli in materiale composito che fanno parte del pavimento della terrazza fissate anche queste con ganci in acciaio. Non contenti di questa edificante operazione questi soggetti o sotto i fumi dell'alco o per puro sfregio dal bene comune hanno pensato di gettare giù dalla passerella i pezzi rimasti dei listelli nel parcheggio sottostante come suggello alla loro opera massima espressione del loro livello intellettivo e culturale. Ora al di là dell'aspetto pratico che ha deturpato un bene comune impedendone di fatto la fruizione a tutti coloro che giornalmente frequentano il posto si è verificata anche una potenziale situazione di pericolo viste le larghe fessure che si sono create con appuntiti supporti a vista. Ora è necessario che il tutto venga ripristinato al più presto possibile dato che c'è il concreto rischio di serie conseguenze fisiche nel caso che qualcuno soprattutto bambini dovesse finirci sopra qualora non si accorgesse dello stato della terrazza dato che la furia del vento dei giorni scorsi ha sradicato anche il nastro rosso e bianco che delimitava l'area avvertendo del pericolo.